ciao a tutti oggi prepareremo l'insalata di orzo con verdure il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa ingredienti sono cipolla menta fresca basilico prezzemolo olio carote zucchine pomodorini sale acqua dato vegetale fatto con il bimbi orzo perlato e piselli diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla la menta il basilico il prezzemolo chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 5 secondi a velocità 5 finiamo un po sul fondo del boccale versiamo l'olio e lo facciamo insaporire per 5 minuti 120 gradi velocità 1 adesso aggiungiamo le carote le zucchine e i pomodorini aggiungiamo il sale chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 15 minuti 100 gradi con l'antiorario velocità soft trasferiamo in una zuppiera senza lavare il boccale versiamo l'acqua e il dado vegetale che abbiamo fatto con il bimbi posizioniamo il cestello mettiamo l'orzo e i viselli chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 25 minuti 100 gradi velocità 4 adesso con l'aiuto della spatola rimuoveremo il cestello e verseremo i piselli e l'orzo all'interno della zuppiera con le verdure insalata d'orzo con verdure grazie e alla prossima ricetta grazie grazie grazie